Salve a tutti, nuovo appuntamento con Sport Selection, il telegiornale sportivo di Per Sempre News. Partiamo con il calcio. L'Italia ha vinto 4 a 1 contro Israele, resta prima nel girone. Nell'altro match il Belgio ha perso 1 a 2 contro la Francia. Azzurri e Transalpini ad un passo dalla qualificazione alle Final Eight di Nations League. La classifica vede l'Italia al primo posto con 10 punti, seguita dalla Francia a 9, Belgio a 4, Israele chiude a 0. Prossimo turno di Nations League avremo Francia-Israele e Beggio-Italia il 14 di novembre. Allo stadio Nereo Rocco di Trieste alle ore 18.30 si giocherà Italia-Irlanda Under 21. L'incontro è valido per le qualificazioni agli europei. Il Cittadella annuncia di aver affidato la condizione tecnica della prima squadra ad Alessandro Dal Canto. Il Genoa ha ufficializzato l'ingaggio dell'uruguayano Gaston Pereiro. Ha del clamoroso quello che è accaduto alla Nazionale nigeriana prima della partita contro la Libia. La Nazionale viaggiava verso Benghazi dove si doveva disputare la sfida della quarta giornata di qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il governo libico ha inaspettatamente revocato l'autorizzazione all'atterraggio dell'aereo sul quale viaggiavano. Trust Ikong, il capitano, ha comunicato che non avrebbero giocato il match tramite un post sui social. Come capitano insieme alla squadra abbiamo deciso che non giocheremo questa partita. La CAF dovrebbe esaminare il rapporto e cosa sta succedendo qui? Anche se decidessero di consentire questo tipo di comportamento lasceremo i tre punti. Non accetteremo di andare oltre, non è sicuro. Possiamo solo immaginare come sarebbero l'hotel e il cibo. Tennis, ATP Stoccolma. Lorenzo Sonego vince contro Mark Andrea Hussler, 7-6, 7-5. Matteo Berrettini vince contro Luciano Darderi, 6-4, 6-3. Nel doppio Luciano Darderi e Lorenzo Someco contro Zilischi, Hugo Nis. WTA Doppio, Japan Women's Open Tennis. Anna Siskova e Angelica Moratelli vincono contro Sofia Kenin e Bethany Matek-Sens, 6-1, 6-2. WTA Ningpo Open. Il match tra Kate Boulder e Sara Irrani è stato sospeso a causa della pioggia. ATP Almaty Open. Fabio Fognini ha perso il match contro Otto Wirtanen, 6-3, 7-4. Basket Eurolega. Oggi alle 20.15 Olimpiakos Pireo, Olimpia Milano. Sempre alle 20.30 Virtus Bologna, Zalgiris Kaunas. Vela il calendario dell'America Scalpa. In gara 4 New Zealand ha battuto Ineos Britannia di 23 secondi. Si è portata così sul 4-0. Oggi giornata di riposo. Ciclismo. Condannato a quattro anni dal tribunale di Vicenza Wolfgang Rieke. Il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino aveva travolto e ucciso Davide Rebellin. Passiamo alla NASCAR. Cambia la classifica finale della prova al Charlotte Roval. Alex Bowman della Hendrick Motorsports Chevrolet è stato escluso dalla corsa dopo aver rimediato una squalifica. Al suo posto Joey Logano della Penske Ford. Tiro al volo al via le finali di Nuova Delhi. Gli azzurri in gara Silvana Maria Stanco, Erika Sessa, Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Diana Bacosi, Martina Moruzzo. Snowboard. I convocati dell'Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo a Ciur. Previsto sabato 19 ottobre. Nicola Liviero, Loris Framarine, Jan Matteoli, Alessia Vergani, Marilu Poluzzi, Emma Gennero, Matilde Pizzutto. Freestyle. Vediamo sempre i convocati dell'Italia per la Coppa del Mondo a Ciur. Questa volta si svolgerà venerdì 18 ottobre. Flora Emiro Tabanelli, Leonardo Donaggio, René Monteleone. Ci di fondo i convocati dell'Italia per il raduno ad un mese al via della Coppa del Mondo che si terrà a Ruka in Finlandia dal 29 novembre al primo di dicembre. A Ramsau in Astria si raduneranno Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barpa, Davide Graz, Simone Dapra, Paolo Ventura, Michael Elweger, Simone Mocellini, Caterina Gantz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Nicole Monzorno. A Bolzano invece ci saranno Passiamo al tiro a segno. Sono quattro gli azzurri in gara alle finali di Coppa del Mondo di Nuova Delhi che si svolgeranno dal 15 a mercoledì 16 ottobre. Federico Nilo Maldini, Massimo Spinella, Eduardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo. Chiudiamo con la palla ovale. Le azzurre hanno chiuso il WXV2 con la seconda vittoria in tre match. Hanno battuto a Cape Town, il Sud Africa, per 8 a 5. Con la vittoria confermano l'ottava posizione nel ranking mondiale. Vediamo quindi la classifica del ranking. Al primo posto l'Inghilterra, seconda Canada, terza gli All Blacks la Nuova Zelanda, quarta Francia, quinta Australia, sesta Irlanda, settima Scozia. Ottava Italia, al nono posto gli USA, scende il Galles al decimo posto. Ancora, grazie alla vittoria, si sono guadagnate l'accesso alla prossima Rugby World Cup del 2025. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima con il Sport Selections, il telegiornale sportivo di Per Sempre News. Grazie a tutti.